Peppa Canarina è sempre più depressa, perché ci mette sempre la stessa maglia sporca, impadellata, sempre la stessa auto, che secondo me è un muletto, figurati se quel alettone è buono, detto da lui. Vabbè, comunque sia, i suoi prototipi non li compra neanche quello che lavora sotto casa e lava ucessi. Allora, praticamente due novità di cui vi ha parlato Peppa, il primo sono i colori, e vabbè, bianco e nero, e vabbè, chi se ne frega, la seconda sono gli ops, cioè sarà solo il bianco e il nero nelle automobili, ma si sa, gli ops perché sono pacchetti preconfezionati, gli ops saranno da affittare, che male c'è, ma perché è finita l'automobile, l'automobile sarà solo in affitto, ok? Sarà solo in affitto, sarà solo in affitto, sono dei modelli preconpilati, non esiste più il concetto di auto, l'originalità dell'auto, il piacere di guida è finito, è come Uber, cioè sono flotte aziendali che ti affittano l'automobile, così gli ops si attivano da un software, è la nuova frontiera dell'auto. La mobilità sarà A e B, punto, in maniera elettrica e per risparmiare sui costi ambientali, questo è il nuovo mondo. Allora, si dimentica del pandino, cioè parla degli schirbacchini italiani, no? Questo signor nessuno, tanto basta leggere gli articoli di giornale per capire che è un pregiudicato, e si dimentica di parlare di pandino. Vergognati e lavati la bocca e studia.